NDI, il castello di Bowser, bellissimo, Bowser che si lamenta la sua esistenza, prende una foto di Mario e Peach con la sua foto, con lo sticker della sua faccia sulle testa di Mario, ora vuole suicidarsi credo, no, va in camera di Bowser Jr. che sta giocando probabilmente su Mario Freddy World e sta praticamente al combattimento finale e sta ammazzato il padre, bello, ora Bowser l'ha visto e gli ha detto ma che sta a fare, ma che meno, avendo pure ragione anche, scusami, ma come ti permetti, e ok, partono per dove? Mario, così, non mi piace, testa, cioè faccia troppo rotonda, baffi troppo così, capelli, non so, lo notate anche voi? Yoshi e Luigi invece mi piacciono, animati così, Paper Peach, sulla lette, ma perché, ma cosa c'entra, ma perché? Mario, perché, vabbè, correte, tanto che fa roba sta torta, castello e giardino copiati solo a 60 kg, e i Todd che provano a cucinare, buon per loro, e, bravo Todd, veramente, che c'è, un baby io, non lo metterò nella pentola, niente, questo fa tipo l'unitunz, questo Todd è probabilmente un fumatore, questo, questo è una scoreggia atomica, entra Peach, e, poveraccia, mia moglie va a fuoco al castello, Allora, Mario sbatte la porta, manco, con una forza in mano, Todd con delle braccia lunghe 6 metri, e delle gambe cortissime, non si sa come fa camminare, però, va bene, cioè tu hai ammazzato un baby Yoshi appena nato per questo? E lui se lo ma, e, e Yoshi se lo ma, ma vabbè, aiuto, ma, Tom Holland che doppia Yoshi nel film di Super Mario nel 2022, bellissimo, vabbè, Mario e Luigi cazzotissimi, all'attacco, va bene, Buzzer Junior, e Luigi, no, ecco, no, Buzzer gli è parte a scimmia, no, temeno, c'ha pure ragione, e, va bene, no, no, questa scena si è commentata da sola, no, io non la commento, no, 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 Vabbè, tralasciando la mia risata, bellissima, Mario, va, da fuoco alla sua mano, lui che usa la tecnica, di, e, 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 perfetto, così, va bellissimo, e, e, Kaboom, Yoshi che muore, e loro che se ne freghano, perfetto, bellissimo, e, Buzzer che lancia il figlio, vabbè, è normale, e, braccia, e, chiamare Luigi, lungo, cioè, non si sa quanto c'è la musica, Luigi, è diventato, uno, 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 e, si è ripreso, Mario usa la stessa tecnica Luigi, no, anzi, lo ammazza Bowser, ah, proprio così, bello, Mario carichissimo, thanks, bad, vabbè, l'animazione è quasi finita, vi chiedo di iscrivervi, lasciate, e lasciare like, se vi piace, se, cioè, se vi è piaciuta, anche se ci stanno degli ultimi 30 secondi, forse, non lo so, mi è caduta la foto, però, sì, mi è caduta la foto, bellissimo, ah, però voglio vedere l'auto, molto bella, thanks for watching, subscribe for more, anche voi fatelo, ovviamente, e bello, molto bello, e ciao.